Ciao ragazzi, allora oggi faccio un'altra clip e siamo sempre sull'Hidecraft nella serie interattiva con gli iscritti e raidiamo oggi una skybase, e qui nei paraggi vi entrerò in chiamata con un po' degli iscritti, mi tipperanno direttamente da lassù ma voglio far vedere che la skybase è qua, fmap, molti mi avete chiesto come si trova basta fare fmap, questo in alto è il nord, quello in basso è il sud, questo è l'est e questo è l'ovest no, questo è l'est e questo è l'ovest, e lo potete vedere anche da qua, perché c'è scritto nord, sud, west vuol dire ovest, s vuol dire est e si può poi premere F3 e qui c'è scritto south, quindi east, north e west, così si trovano le coordinate, si va verso la direzione giusta e si trova la base ora vi lascio il raid di oggi, sarò in chiamata direttamente con due iscritti, e spero che il video vi piaccia e faremo esplodere quella skybase in buona sostanza, l'ho pagata 20.000 e spero che vi piaccia mi sembra molto sospettoso come cosa vabbè, tipa mi è, mi dice a me che io sono in got e se ti vogliono fottere tu te ne scappi e io rimando controllo le coordinate, qua c'è, diamo un kit a sto ragazzo, non si può andare in giro senza kit kit nuovo comunque blu io sono arrivato a meno 20.000 e ho trovato una cosa molto sospetta qua ma mi han tippato a meno 20.000, si esattamente dove diceva home home e niente, andiamo a vedere là sopra se c'è qualcosa, se c'è qualcosa è bene, se non c'è niente home home, prendo dei blocchi com'è? c'è nella neve? devo disattivare anche i suoni di tss, ok eeeh si eeeh c'è una skybase di legno in poche parole ho capito, ti sono arrivato, ti sono arrivato c'è una tipa t da me e voli su che altro devo fare vai eccomi ti tipo solo sull'albero ci sono sti due qua tpa here, mega, stasera e la per aria ah capito, ah ah c'è un tizio online credo ma è di legno, cioè con un cannone gliel'ha ammazzato ma è claymata, f map si è claymata ah allora dobbiamo comunque andare su omanos è claymata ah divertiti beh ho un ender perla, adesso andiamo a killarlo come prima cosa accetta fai prima non ucciderlo in fly lascialo a me vabbè se non accetti io ti tipo direttamente sopra ok mi sto tippando ammazzati guarda come ti guardano un po' mi spiace dai è modesto ti sta guardando satella pure dai poverino intanto lo metto a enemy si fa uccidre che base è? mi sento troppo male a raidarli è troppo bella eric lì abbiamo abbiamo solo per avere me però le grazie di sti players sono troppo bella cioè non hanno niente ma cazzino ma però qua c'è secondo me qua dentro qualcosa non hanno niente mi dispiace quanto hanno di power? la fazione loro si chiama di whale 27 fshow quale hanno 7 land 21 power 130 max power eh sono tanti ma sono parecchio nabbi questi saranno tutti a meno 10 mi dice anche non ridearmi plays non ridearmi dai non li rideiamo sono troppo buono perché sono troppo nabbi ok tpa here eh guarda avevo fatto pure il kit tnt limor avevo fatto pure il kit tnt oggi sono buono cerchiamo un'altra frase gli vi do la roba perché è un kit a posto di redarli gli dai kit perché quando mi ha visto non mi ha attaccato cioè è stato per troppo buono come player e dai allora facciamoci un regalo eh dov'è whale? però non li vedo eh li hai fatti scappar via eh whale ti fatti ti ridò la roba paracisti paracisti fatti eh facciamogli peccatevi questo si devo pagare excite eh pay excite paracisti perché alla fine la base c'era però è veramente eh cioè non c'è niente non c'è niente cioè non ci avremmo guadagnato nulla lo stesso uh ho trovato quello la che stavi cercando comunque c'è un po' di roba di la eh lo so il magazzino ma secondo me saranno vuote ragazzi adesso io whale o ti ti o ti ti fidava eh o di esplode la base scegli eh lo sai vero che dai davanti a te ah ok voglio ridargli un po' di roba gliel'ho dato gliel'ho dato io la pronto quattro la pronto tre gliel'ho dato il no chiamante oggi sono buono perché questi qua hanno appena iniziato non si può raidarli eh si da ora ci faremmo guittare proprio dove sono? ti sei chiuso? ma come son finito qua? e' qua? neanche con 50 enderper sarei mai finito in sto punto sei riuscito tu vabbè dai voglio solo vedere cosa c'è nella stanza ti scrivo whale fammi vedere la tua base l'ho trovato uno comunque eh e' fatto l'e' fatto scappar via vada lì che tanto non ti griffiamo dammi vedere di la dici che l'ha appena costruita eh abbiamo notato si vede si vede poveraccio si poveraccio davvero posso vederla posso vederla guarda che città cartello stai fucilato stai fucilato cos'è su motari comunque ce n'è uno sotto l'hai fatto saltare via l'hai fatto cagà sotto a straccio l'hai fatto buttare giù no no non c'è più ah finalmente posso andare la voglio vedere questa parte di base cavolo cose prese dal pvp materiali esempio legno pietra no materiali preziosi no materiali preziosi materiali esempio legno perchè tutto esempio qua cerazze elmi gambali piedini saranno tutti loro piccoli materiali preziosi mele dorate rosse e pawa cibo mele rosse anche le rosse tengono ascia pala spada zappa zappano la linea altro 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 bella base da me qua è tutto tutto dai l'hai detto solo per non fare oddio che schifo f invite it's it's pawa che mi ha chiesto di entrare in fazione un po' di tempo fa ma si dai li lasciamo vivere per oggi cioè mi sento la home whale è stato abbastanza buono mi sento la home qua vicino e se poi se poi o la fanno più grossa o la fanno perlomeno più carina più l'ho settata la home più challenge ecco che è l'ho settata qua sopra allora diventa anche più ballo ai darle però non li lasciamo vivere gg boh chiudo qua la clip vediamo poi cosa fare ok ci siamo tutti join mi devo tpa da exciting che è il ragazzo che ci ha venduto il raid oggi ah è anche lei mata credevo dovessi ucciderlo ah ok regole oh ti ho fatto tpa chi ha questo? ok ho accettato uno chi è che manca? io sono già qua ah c'è pure le regole bene tipo tippure perché c'è mega assassino? ci siete tutti? ah io ah io non sei entrato in fazione mi sa io si che sono entrato fazione blue army c'è scritto ah non ho messo ali mega assassino ok siamo posti ma posso prendere gli oggetti ma non ha climato si faccio scritto aspetta che voglio leggere tutti i cartelli c'è un po' di roba standard leggi i cartelli quindi vi lascio priata da silvia e sara allora leggiamo regole regole nooo non mettere la tnt voglio leggere manca assassina forte non vado nooo volevo leggere le regole che cos'è? isa che ci hai messo troppo nooo ma di chi è questa base? esplosione boom ma possiamo prendere la roba? vuoi prendere quello che vuoi prima che esplode tutto ah allora aspetta ho preso una pozione di fazza aspetta conviene farlo anche velocemente intanto io pago il slip eh ci vuole la mila exciting che ci ha dato il raid e una mela 10 mila non c'è niente una mela niente poverino ok ho preso un po' di protfer cosa stiamo? vi lascio il resto ragazzi vediamo se c'è altro ah ma non mi serve niente no no stiamo facendo esplodere la stanza da letto c'è una stanza da letto? c'era diviso maschi e femmine e c'è l'ha scritto no femmine tancia maschi e no femmine ah stop ah non voglio esploder oh simo esplode no chi è che esplode? no ho l'armatura sono morto ah è uno tato infatti ho detto qualcuno è morto qua ti piace io l'armatura prato 2 eeeh the phantom man 1 ti ritipo ti ritipo eh piova volta successo è netti prenditi l'armatura è piena eh intanto io metto io intanto metto non c'è più l'armatura qua questa cassa è piena eh ma non c'è niente di inutile fa tutto schifo ma tu vallisimo si ma sei vip? si sono magipline ah non sapevo che volessi volare non credevo possiamo operare io sembravo una base sotterranea no non credevo io prendo tutti i diametti hai tueso tutto phantom? ok io ho finito ok prendo solo il cibo sai che sta facendo il ponte? ah questo qua per ripararsi dall'esposizione c'è un po' di pro 4 iron che avete lasciato vabbè va bene no ma non mi serve la prendo perchè si serve a qualche altro iscritto siamo a posto ok ma è meglio l'ha preso da un diamante o l'ha preso qua in ferro uuuuh Sai andai blu per le decorazioni cosa? c'era c'era un sacco di cose blu la sabbia per i sun cannon ok siamo a posto credo guardate 2 inferno si può fare esplodere non c'era niente di diamante eh lo so no questo è scritto boom boom siete pronti? io si vediamo cosa c'è scritto la questo piccano che c'è anche da onde ha scritto lì per dove non si raida in god che la miseria almeno non crepo come te non si raida in god perchè non muori? perchè in god ah ma ah ma ah ma Vladimir è mega assassino l'ho capito io adesso ah cioè l'ho capito adesso buon siamo pronti ah scappa no mi sono intrappolato dentro uuuuh questo è stato interessante mi serve dell'ossidio nooo i piaci quale sui rischi e pericolo sentiamola oh leh vediamolo ancora easy l'ho capito l'ho capito